Cambiamo adesso decisamente argomento, parliamo dello spot diffuso quest'oggi dall'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna, il titolo è Esci dal Nero, si vogliono raccontare i vantaggi per gli inquilini che decidono di regolarizzare il proprio contratto di affitto, si tratta di un cartone animato realizzato a costo zero dal giovane videomaker bolognese Marco Coppola e a un certo punto fa capolino anche il nostro telegiornale. Vediamo lo spot Che parte adesso Let's set up my foot 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 Buonasera ben trovati dal nostro magazine, in questa puntata ci occupiamo di contratti di affitto, come essere in regola, come si fa, quali sono i passi da seguire. E' importante sapere che l'inquilino che rinuncia la sua posizione di un affitto in nero ottiene un vantaggio che è quantificabile ed è immediato, ottiene di avere un contratto di rimanere in quella casa per un periodo di 4 anni rinnovabili di altri 4 anni. Questo è lo spot della gestione delle entrate contro gli affitti in nero, non possiamo che essere onorati di aver fatto una breve apparizione in questa iniziativa.